Dopo averne parlato su Repubblica in un articolo del 2 ottobre 2013 dal titolo Grotta Mare e la Star, Carlo Petrini di Slow Food International sbarca a Grotta Mare. Di questo speciale incontro che si svolgerà domenica 16 marzo ore 10.30 presso la Sala Cursal, abbiamo parlato con Paola Massi del Forum dei Movimenti per la Terra e il Paesaggio delle Marche. Questa era un'idea che noi avevamo già da due anni perché secondo noi Petrini può ben rappresentare quello che l'associazione Forum Paesaggio Marche assieme a tutte le 94 associazioni che hanno dato vita a questo forum regionale per la presentazione della legge di iniziativa popolare per il governo del territorio ha sempre avuto molto ben chiaro in mente. Cioè fare dei nostri territori così unici al mondo un punto di forza e di buon governo con una lungimiranza che in questi ultimi 20-30 anni si è completamente persa pensando che le nuove economie scellerate portassero chissà quale ricchezza. Questa crisi in fondo forse ci fa ripensare a in che cosa dobbiamo veramente credere e quale può essere la unica via di sviluppo, quindi un'economia sostenibile, rispettosa delle persone che vivono sui territori, del bello a cui l'Italia da sempre ci ha abituato. E come dico sempre io, poniamoci, una riflessione va fatta, perché nei posti brutti abbiamo sempre sacche di malavita, problemi sociali, nei posti belli questo non succede, perché il bello che ci circonda e la terra, il paesaggio, non da un punto di vista bucolico ma da un punto di vista anche economico, ci può aiutare a sopravvivere in una maniera dignitosissima. Petrini si farà portavoce di questo perché lui è stato il precursore proprio di questa idea che adesso tutti stanno abbracciando. Economia sostenibile, un rispetto assoluto dell'agricoltura e avremo modo di discutere con lui di tutti questi problemi e spunti. Infatti avremo nella platea molti imprenditori agricoli, turistici, che sono un tessuto importantissimo dell'economia delle Marche e la legge che noi abbiamo presentato un anno fa in visione adesso presso la Regione Marche va proprio in questo senso. una organica riflessione su quello che deve essere il nostro territorio, non disgiunto in maniera barbarica in aree urbane, periurbane e cementificate, ma tutto pensato con una buona e unica regia.